Buongiorno a tutti, sono Sabrina Ritorto per chi non mi conosce e grazie per questa richiesta che ho accolto con entusiasmo. Sono molto lusingata e spero in questi 5 minuti di riuscire a darvi qualche dritta, qualche informazione su come provare a mettere i pensieri in circolo perché questa è una delle mie mission e delle finalità che mi ha fatto dire sì, è ora di passare alla libera professione. Non mi dilungo tanto sulla mia storia a chi sono perché poi qui sotto trovate tutte le informazioni, ve le recuperate da voi e magari se avete voglia mi scrivete un po' se effettivamente ci sono riuscita o se invece vi ho annoiati. Pensieri in circolo, la prima missione. La seconda è che cos'è per me la libera professione. La libera professione è la libertà di pensiero, non è il regime fiscale attraverso il quale veniamo pagati, ma al contrario per me è il prezzo che io pago fatto da fatiche, burocrazia, organizzazione, per mettere in circolo la libertà di pensare ad aiuti possibili. Non a caso il mio logo è un po' quello del mio nome, scusate, è a un aiuto possibile e il mio logo sarebbe un bel indovinello che cosa per voi rappresenta. Contiene le lettere della mia famiglia L, mio marito, S, la mia e dentro ci sono le due lettere G e Giorgia Emma delle mie bambine. Perché l'aiuto possibile io riesco a darlo solo laddove sono in grado anche di conciliare me e la mia famiglia con tutto il resto. Quindi questi vi sto dando dei capisaldi per me del perché e come esercito la libera professione, perché non c'è un modo giusto, ma c'è un modo giusto per noi ed un modo che ci rende quindi assolutamente credibili e spendibili all'esterno. Questa credibilità io l'ho raggiunta con più di 15 anni di lavoro, tutti, tutti nell'area minori e famiglia. Non so fare nient'altro, credo di saper fare sufficientemente bene questo. Parlare veloce perché una logorroica come me 5 minuti mi sento ma voglio, ce la devo fare, quindi spero di essere compresa e comprensibile. Il lavoro nell'area minori e famiglia è la mia competenza. Ho svolto per moltissimi anni in un'azienda, la prima qui in Lombardia, che ha costituito un'equip centrale di valutazione, ho fatto questo. Mi sono occupata di valutazione e indagine, quindi acquisire competenze e strumenti specifici per valutare chi ho davanti. E quindi l'altro elemento importante è via, via, via l'ottica che noi giudichiamo. Abbiamo un pregiudizio, dobbiamo essere spendibili perché non abbiamo storie alle spalle come per esempio la psicologia di testi scientifici. Tutto il nostro lavoro è molto basato su lei ha detto, lei ha pensato. Noi dobbiamo essere in grado di dare dati e questi dati, cioè il problema in relazione ad altri problemi, trasformarlo in maniera credibile in un aiuto concreto e possibile. Quando mi sono licenziata dopo mesi di supervisione, perché è stato molto faticoso dire che tutti quei pro pesavano così poco rispetto a quei due contro, ho fatto il salto nella libera professione. Il fatto che io sia seduta qui in terrazzo da me per terra è per dirvi di uscire anche da schemi preconfezionati, dal bel ufficio, le belle poltrone, il bel setting. Può servire in alcune situazioni con l'utilizzo di alcuni metodi, ad esempio uno dei metodi che io maggiormente utilizzo in questo momento lavorando con l'alta conflittualità è la coordinazione genitoriale. Ma quando lavoro con i minori, con le famiglie, perché io non posso andare a lavorare a casa loro? Perché non posso andare in un parco? L'ufficio serve, serve forse per questioni anche amministrative, burocratiche, come vi ho detto, per particolari situazioni, ma uscire dalla logica del nostro studio, del nostro servizio. Quando ho iniziato quindi a lavorare ho dovuto studiare tantissimo come vendermi e i social sono stati sei mesi di grosso lavoro. La maggior parte delle persone a me arriva così, arriva dai social, c'è una parte da invio da colleghi. Quando ho iniziato a lavorare in libera professione dei colleghi psicologi mi hanno chiamato e mi hanno detto abbiamo bisogno che tu ci aiuti in tutto quello che noi non sappiamo fare. Leggere provvedimenti, costruire progetti e così è nato Sei in Equip. Trovate lì il perché si chiama Sei in Equip e che cosa noi facciamo. Ma il nostro punto di forza è l'integrazione per poter lavorare in una complessità sociale e familiare che in questo momento è alla portata di tutti. Quindi i colloqui sono solo l'inizio per poter in qualche modo lavorare con le persone e occuparsi di loro attraverso metodi quali appunto la coordinazione, la mediazione familiare, il supporto alle competenze genitoriali. Lavoro moltissimo sulla supervisione ai colleghi in servizi o nel mio servizio dove il collega decide di trovarsi. Lavoro tantissimo nella classe, nelle scuole perché è lì, la mia libera professione è nata lì, nelle scuole. E cerco di portare una visione diversa, mettere in circolo i pensieri e sfatare un po' il mito che l'assistente sociale è solo quello che i mass media ci dicono essere. Quindi mi piacerebbe veramente avervi dato un pensiero che deve diventare il vostro perché voi non siate la copia di nessun altro, ma voi siate voi e le persone vi riconoscono per quello che voi siete, per quello che voi offrite e quindi vi cercano. Fatemi sapere un po' com'è andata e come andrà e a presto e buona continuazione da Sabrina. Ciao!